13esimo capitolo, locomozione è un altro capitolo in cui partiamo proprio a mille e dobbiamo raggiungere il più possibile appunto la cima del vagone ok, da quel che si è visto nel capitolo precedente il treno è abbastanza lungo quindi avremo parecchi vagoni da scalare e io sono sicurissimo che ci saranno diversi stronzetti a farci visita ma noi dovremmo giustamente essere più forti se no non usciremo mai ok, allora intanto due vagoni abbiamo già superati e andiamo avanti ho un po' di armi che bello oh, che assist meraviglioso morto lì eh, però voglio l'M4 scusami ma si cerca sempre di meglio nella vita vai via nessuno ti vuole ma sto stronzo laggiù ho visto qualcosa vieni qua, hai visto qualcosa? vieni qui vado a cercare là, vai niente, continuo a cercarlo qui, ok va bene sei stronzo però cosa arruffoli in aria vaffanculo salve ragazzi devo solo controllare i biglietti mi fa morire quando dice queste cose Drake mi fa veramente troppo morire no il mosse te lo metti su per il culo oh oh pela bello ammazzare così è bellissimo ma vabbè un calcio non va devo trovare un altro modo eccolo qua il modo ok qua c'è l'H47 però qua c'è anche un bel stronzetto da far fuori pensavo non lo ammazzasse no l'arma bastardo ci sono altri bastardi ovvio fammi fare così via vieni qua razzo man chiunque tu sia eh c'è il mitragliatore no ma te pareva aspetta la prossima aspetta la prossima raffica che torni a salute e adesso ci muoviamo ora stupido 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 ma coglione no ok next e chi dice che di là non si passa eh sti binari la pro lanciata dove no dove mi lancia perfetto grazie no adesso vaffanculo l'ho rischiata tantissimo e vaffanculo dai next scusate ho appena mangiato ho tutto il riso in gola oh cazzo ok bene ok giochiamo pulito giochiamo pulito appunto guarda guarda come si è pulito se giochi così boom ciao buonanotte ragazzi aspetta aspetta che c'era un altro qua l'ho visto sai l'ho visto benissimo lì pensavo lo prendessi poi per fortuna non l'ha preso qua c'è un car armato che diavolo ci fanno con un car armato ah non lo so chiedilo a loro qua è laterale ma non mi fotti ovviamente adesso che sopra ci può passare li metti laterali no no non li metti laterali certo li metti laterali eh ok devo almeno arrivare in alto non è che ti prende vero no bene salta salta in questo momento salta guardati intorno salta in piazza Mazzini un soffio di vento salta salta che se festa ma cazzo faceva la canzone vabbè per pochi comunque eh per pochi anche la gente che stiamo incontrando bello in testa dai tutto questo fucile ah eh c'è ancora capivo munitionis sto quasi dimenticando ok di sicuro non ci possono essere i segnalini adesso ci mancava anche l'elicottero manchia ma dov'è la locomotrice oh ok c'è da correre va bene e metà treno quasi quasi se n'è andato è inutile sparare a questi cosi ragazzi perché veramente non non li distruggerete mai ok eh ciao 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 idioti non vedete l'elicottero sono già abbastanza incasinato e qua e non ha fatto niente non ha fatto niente letteralmente ragazzi non è servita niente la bomba non ho capito mai come sparo un proiettile vengo fucilato a sangue anzi no un fucilato un mitragliato che forse è ancora peggio bene momento di muoversi si stacca appena saltiamo me sono sicuro ecco ci mancava anche aspetta c'è un altro più là ok devo raggiungere il prossimo vagone per forza adesso no scampato scampato pericolo subprima del prossimo se mai ci fosse aia questa posizione non mi piace ah li ha pure fatto scendere da uscendere se potete dire uscire o scendere dall'elicottero vabbè ragazzi io per ammazzarne uno ne devo devo prendere 680 colpi e capite bene che io sono in palese difficoltà in queste situazioni però aspetta che se non muoio razzo meno male che culo l'ho ucciso non lo so pistola a pompa potrebbe essere utile eh lo so spara ah spara con l'RPG ok ok a me non l'ho colto l'ho colto ma evidentemente poco l'ho fatto apri quella porta prima che ti sporino soprattutto prima che spuntino altri bastardi ok bene un altro pezzo del treno se ne va madonna oh che culo che c'è il tunnel eh dio grazie per le gallerie aspetta che intanto inizia l'altro capitolo adesso e sarà molto tosto qui c'è il tunnel che c'è il tunnel